Sono Bernardetta, sono la responsabile dei reparti collaudi e finitura e questa è la nostra area del lavaggio. Chi se ne occupa è la mia collega Natasha. In questo reparto ci occupiamo del lavaggio dei nostri componenti, procedimento che avviene dopo la fase di produzione e dopo la fase del collaudi. Il lavaggio inizialmente avveniva tramite macchine a vasche, oggi è completamente automatizzato ottenendo dei migliori risultati. La macchina di lavaggio lavora a temperature e pressioni molto alte e tramite la formazione di micelle abbiamo la rimozione e le dolie di produzione. I nostri componenti vengono puliti internamente ed esternamente anche da eventuali microbavi di lavorazione attraverso l'utilizzo di buratti che con granelli di ceramica, porcellana, agli oppure noci vengono completamente ripuliti per essere poi consegnate alle colleghe del reparto di finitura e collaudo per i controlli di precisione. Così siamo sicuri di poter offrire agli odontoiatri i prodotti con la certezza e tutto fili liscio come l'odo che non c'è.